Oggi è una giornata speciale perché Roma ospita Motodays, la non edizione è sempre più importante con sempre più presenza di pubblico ma anche grazie ai nostri espositori. Roma con i suoi 700.000 centauri giornalieri non può non avere una manifestazione di questo genere e fra parentesi con gli spazi che abbiamo all'esterno diamo veramente tantissime possibilità di provare anche cose nuove. La promessa che abbiamo fatto io e i miei collaboratori è di farla crescere sempre di più anche a livello internazionale e di farla diventare un punto di riferimento per tutta l'area del Bocino del Mediterraneo. Sicuramente per la Federazione Motociclistica è un momento importante perché anche noi siamo presenti ovviamente con il nostro stand istituzionale e ovviamente questo è il nostro mondo, esprimiamo la nostra passione stando vicino ai nostri stesserati partecipando a questa fiera che riteniamo una delle più importanti nel panorama italiano. Noi siamo presenti qui con la Forza Armata, anche con i mezzi storici del Museo della Motorizzazione ma anche con dei simulatori, simulatori di vuolo dell'Aves e simulatori alla guida di moto. Buona fortuna e bocca al lupo, Jimmy Ghione e striscia la notizia a Roma. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!